Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Ha ripreso ad allenarsi il Pescara di Alberto Colombo, dopo i due giorni di riposo e dopo aver terminato il ritiro in montagna di Palena, la squadra è pronta per un nuovo ciclo di amichevoli che fanno seguito a quelle d'esordio con la Dana Damni Sport di Vincenzo Montella e quella con la Delfino Curi Pescara, entrambe vinte espettivamente per 2-1 e 5-0 dalla formazione Biancazzurra. Una squadra che in vista della prima gara di Coppa Italia, prevista per il 21 di agosto e soprattutto del campionato, che quest'anno comincerà il 28 di agosto, sta prendendo definitivamente forma con il centrocampo che resta il settore dove c'è più necessità di innesti. Primo fra tutti quello di Salvatore Aloi che arriverà dall'Avellino con prestito, con diritto di riscatto del Pescara in modo da accollare alla società irpina il pagamento del pesante ingaggio del giocatore. Inoltre, sempre a centrocampo, arriva Erdin Kragia, 22enne di proprietà dell'Atalanta, lo scorso anno a Lecco e soprattutto arriverà Andrea Ghion, che come ha confermato anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ai nostri microfoni, è atteso dai Biancazzurri per il ruolo di playmaker. E poi la difesa con l'arrivo dalla ternana del centrale 28enne sloveno, Mattia Boben, anche lui atteso in settimana in prestito. Intanto, mercoledì, nuova amichevole per i Biancazzurri a Pianella alle 18 contro la formazione locale che milita in promozione. Poi il 7 agosto, sempre alle 18, ci sarà il tradizionale triangolare di Pineto con Pineto, formazione di D e Spoltore che gioca in eccellenza. Infine il 10 agosto, penultimo test con l'Angolana a Città Sant'Angelo. E sabato, 13 agosto, ultima amichevole prima della Coppa Italia a Penne contro la locale squadra di promozione.